le parole restano a dare e a fare quella meravigliosa avventura che è la vita le parole dette per essere poesia quelle che esplodono sotto uno scalpello per una scultura che finirà in una forma le parole che raccontano una storia una traccia di una trama segreta di un film abbiamo la necessità di parole che producano un linguaggio che ci permetta di costruire di uscire fuori da fughe di paura e altre costrizioni bisogna generare parole capaci di ridare luogo alla tenerezza le parole che costruiscono una coscienza non la speranza parole che possono anche spezzare ma che hanno in sé quel filo capace di cucire e portare la comprensione in ogni dove abbiamo dunque la necessità di parole silenziose senza le voci gracchianti dell'ignoranza spettacolarmente paurosa di questi anni che le parole tornino a chissà dirle buon 2022 da radio stay rock grazie a tutti 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 Grazie a tutti.